Siamo ancora qui al parcheggio della Prada Lago, sono arrivati gli sciatori, vedo che è apprezzata molto la porchetta da tutti, lo sciclepe Senigallia pensa sempre ai propri soci, li coccola e facciamo invidia a quelli che sono negli altri pullman, ma soprattutto che ci guardano affamati, vedo che la porchetta già è stata ben tagliata, siamo in attesa del secondo gruppo degli sciatori, poi tireremo fuori anche le crostate, i dolci, arriva Paolo la merenda dello sciclepe Senigallia è chiamata la merenda del cuore perché tutti si danno da fare Spiccano le tute azzurre Evviva lo sciclepe Non ci aspettavamo questo momento Evviva lo sciclepe Senigallia, hip hip, hurra La bocca è piena, non si può Qui Gabriele Gemignani è tutto da Madonna di Campiglio in diretta